Lo scorso 6 ottobre si è tenuto a Civitavecchia un convegno sull'insegnamento della Costituzione, promosso dall'APIGE, Associazione Professionale Insegnante Discipline Giuridiche ed Economiche. Convegno aperto dal Sindaco Cozzolino, ha visto la partecipazione tra gli altri della senatrice Barbara Floridia della Commissione Cultura del Senato del Movimento 5 Stelle e del Senatore Gianluca Perilli, Vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali, oltre che di studenti, dirigenti e docenti delle scuole locali. Una giornata di lavori dedicati all'approfondimento dell'insegnamento del diritto costituzionale nelle scuole secondarie di ogni ordine. In Parlamento esistono cinque disegni di legge che hanno come firmatari esponenti di tutti i maggiori partiti di opposizione e di maggioranza, più una di iniziativa popolare proposta dal Lanci. Ma sentiamo cosa hanno detto al nostro microfono la senatrice Floridia e il presidente dell'APIGE Ezio Sina. Nell'ambito di questo importante convegno che si sta tenendo oggi a Civitavecchia sui temi della rivalutazione della Costituzione all'interno degli istituti scolastici, le scuole medie inferiori e scuole medie superiori, e si spera anche nelle scuole elementari, perché insomma sarebbe opportuno. Sentiamo un attimo la senatrice Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle, settima commissione al Senato, proprio quella dell'istruzione. Voi avete presentato un progetto di legge su questo argomento. Ce ne può parlare? Sì, abbiamo depositato un disegno di legge al Senato che riguarda proprio l'educazione, l'introduzione dell'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, gli strumenti per la democrazia diretta, nelle scuole, in tutti gli ordini di scuole, quindi dal primo ciclo alla scuola secondaria di primo e secondo grado. Perché noi riteniamo che sia importante ridare dignità a questa materia nelle scuole, perché lavorare con i ragazzi per quanto riguarda l'educazione, la sensibilità ambientale, i diritti umani, insomma tutti quei valori che sono fondanti della nostra Carta Costituzionale, sia significativo, necessario e anche urgente. Senatrice, lei nel suo intervento ha parlato di, diciamo, fra le righe anche di pericoli del web e soprattutto di capacità del ragazzo di approcciarsi al web in un modo serio, se ben istruito, se ben consigliato evidentemente dalla Costituzione. Questo può bastare o bisogna fare anche qualche legge che riguardi le fake news? Allora, diciamo che il mondo digitale è un mondo che esiste e che i nostri ragazzi già abitano, quindi dobbiamo imparare a considerarlo come uno spazio vitale. Adesso, dentro questi spazi vitali, bisogna regolare e regolamentare tanti aspetti. Tra questi aspetti, per la mia commissione, è importante dare ai ragazzi gli strumenti per tutelarsi, per far valere i propri diritti di cittadini digitali e per essere consapevoli di come muoversi in questa dimensione, che non è più uno spazio fisico, ma è una dimensione. E quindi dobbiamo dare i valori orientanti affinché i ragazzi non si perdano in questo mondo. Altri sono anche i temi, possono essere le fake news, i social, e quindi si apre un ventaglio così importante che, in base alla commissione di pertinenza, ognuno normerà quell'aspetto. Senatrice, la ringraziamo moltissimo. Grazie a voi. Amici di Delicacies, siamo in compagnia del professor Ezio Sina, che ha organizzato sotto la sigla APIDGE, che adesso ci spiegherà un acronimo che comunque riunisce tutti i docenti di diritto del nostro paese. un importante convegno dedicato ai giovani e ai ragazzi di scuola elementare, media e media superiore sul corretto utilizzo della Costituzione e insegnamento della Costituzione. Che cosa ci dice in merito, professore? Allora, intanto APIDGE o APIDGE è l'associazione professionale degli insegnanti delle scienze giuridiche ed economiche. Questi insegnanti insegnano la scuola secondaria superiore, e sono incaricati di insegnare il diritto all'economia. La lezioncina di oggi che abbiamo fatto ai politici, perché noi facciamo anche lezioni ai politici, ci prestiamo a questo, è quella sostanzialmente di chiedere loro di fare bene ai politici. E bene ai politici vuol dire preoccuparsi dei nostri ragazzi e della capacità dei nostri ragazzi di essere cittadini. E chi lo dice questo? Non lo diciamo noi perché siamo così presuntuosi, ma lo dice la Costituzione italiana, che prevede il sistema di istruzione, anzi integrato, istruzione e formazione professionale, laddove i nostri ragazzi devono imparare la Costituzione per essere poi, usarla e poi essere cittadini italiani. Noi invece rimproveriamo un grosso analfabetismo italiano, oggi l'abbiamo certificato grazie all'intervento di Alma Diploma, che con questo scoop direi eccezionale ha certificato che 84% su 100 ragazzi che escono, ed è certificato mica da poco, 84% su 100% sono analfabeti giuridicamente. Quindi vuol dire che non sono in grado di badare a loro stessi rispetto alla polis, alla città. Questa secondo me è grave. Quindi la vostra proposta è in un momento in cui si muore di selfie, in un momento in cui i genitori e non solo i ragazzi aggrediscono gli insegnanti, in un momento in cui la Costituzione praticamente ce la siamo messa sotto i piedi e che la Costituzione venga divulgata. Prima studiata, perché l'hanno divulgata. La precedente ministra, un ministro, quello che dir si voglia, ha mandato 8 milioni di libricini sulla Costituzione. Dove sono? Chi li ha studiati? Chi li ha imparati? Se l'84% non sa neanche la differenza tra Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica, ma quello è secondario, non l'ha proprio letta, oppure l'hanno presa e l'hanno messa lì, almeno l'avessero portato a casa. Negli scaffali polverosi delle scuole esistono questi libri. Questo non è modo di fare, di proporre ai cittadini italiani, ai futuri cittadini italiani, lo studio e la percezione di essere cittadini italiani. Certo. Un'ultima domanda, professore. I numeri dei professori di diritto in Italia, non quelli di storia, non quelli di filosofia, dei professori di diritto? 18 mila. 18 mila, cioè 18 mila di questi signori, ce ne sono di più, perché sono poi quelli cosiddetti precari, eccetera, 18 mila sono regolarmente stipendiati dallo Stato. Di questi 18 mila, che insegnano regolarmente il diritto, più o meno sono 10 mila, quindi 7-8 mila di loro sono stati, diciamo così, assoldati in questa specie di carrozzone, di masaniello, non lo so che cosa fanno, e sono stati inquadrati nelle scuole. L'autonomia scolastica, quindi la discrezionalità di un dirigente, di un collegio dei docenti, eccetera, deciderà cosa fanno. Ma molto spesso sarà supplenza, supplenza. Oppure pensare al disabile di turno. Cioè non è questo il modo di fare scuola, di fare istruzione. L'articolo 34 della Costituzione va in un'altra direzione. Ecco, perché noi siamo molto duri, decisi, determinati. Non ne abbiamo più, non abbiamo più voglia di essere presi in giro. Grazie professore. Grazie a lei. Grazie. Grazie. Grazie.